Quello di cui ci occupiamo noi come scuola di tecnica individuale, come ISS, Individual Social School, è quello di curare il gesto tecnico del ragazzo, quindi curare tutte quelle parti che magari in un allenamento normale di squadra non vengono curate. Quindi prendere il ragazzo singolarmente, curare ogni gesto dalla protezione della palla al gesto vero e proprio, al passaggio, alla ricezione della palla. Tutte quelle cose che poi possono servire al ragazzo da applicare in una partita o nell'allenamento e che permettono poi, secondo me, agli allenatori di avere un ragazzo che abbia migliorato le sue qualità tecniche e provare tutte quelle cose che senza la tecnica non si possono mettere in pratica. Just to make sure I can do it any way that you want it I can do it any way that you want it Come on, Dennis ha detto che il nostro Schwerpunkt è la tecnica di nostri spiegoli. per il miglioramento di miglioramento. Questo facciamo, per me due tre treni, e cercare di tutti i miei spielli, per fare una volta in un'altra parte, per fare un'altra parte. E in una giornata di lavoro, in un'argetto di spielli, in cui ci metteremo in un'altra parte, per daremo in un'altra parte, per daremo in un'altra parte. I've got nothing to lose Time after time I take myself